C'è un versetto nella Torah che praticamente dice che c'è un patto di sale e su ogni corbano, ogni sacrificio che si fa bisogna portare anche sale, da sacrificare e deve essere accompagnato di sale. C'è un versetto nel libro di Job, che dice che si può, con un punto di domanda, si potrebbe mangiare una cosa senza sale? No, ogni cosa ha bisogno di sale. Il pane, se è fatto, ci vuole sale. Le torte, anche se sono dolci, un po' di sale c'è là dentro. La carne, il pesce, deve essere salato. Il sale è una cosa molto importante, fino al punto che una volta è usato come la moneta, perché ha anche questa proprietà di conservare cibi, eccetera. E sappiamo che ogni cosa che esiste in questo mondo materiale ha una sua radice spirituale. e cercheremo di un attimo di approfondire cos'è il concetto del sale nell'ebraismo e nella Kabbalah. Nella Kabbalah c'è un concetto dei dieci sefirot. Due di queste, adesso non possiamo mettere in tutte le dieci sefirot, ma due di queste. Una si chiama Chesed, l'altra Gevurah. Chesed significa bontà. Gevurah significa forza. Bontà significa dare ed agire. Forza significa trattenere. Nella Kabbalah ci sono diversi livelli spirituali finché sei da questo mondo. In ogni livello spirituale ci sono dei dieci sefirot. Per quel livello lì, perché praticamente Dio potrà creare un mondo limitato, partendo da un'energia divina illimitata. Dunque ci dovrebbe essere una certa trasformazione dell'energia e di limitarla. E così ci sono diversi mondi che uno dà energia all'altro e poi pian piano, mondi spirituali, pian piano l'energia si limita. e dunque una cosa che è Chesed, in un certo livello, nel livello superiore può essere Gevurah, o meglio il contrario. Diciamo al livello 1, una cosa che è Gevurah, che si dà forza, trattenere. Però per il livello B, il livello più basso, questo può essere Chesed. Razionalmente, magari per lì non fa senso. Però se prendiamo, per esempio, un esempio classico nel Kavala, di maestro e alunno. Il maestro ha un'idea nella sua mente, un'idea molto profonda. Se lui vuole trasmettere questa idea all'alunno, così come è nella sua mente, non è Chesed. Perché l'alunno non potrà recepire questa idea talmente profonda, come che si trova nella mente del maestro nella sua mente. Per lui questo qui sarà una cosa incompossibile totalmente. E dunque, se anche a prima vista sembrerebbe Chesed, in realtà non è Chesed, ma è Gevurah. Perché, a posto di essere una rivelazione, troppa luce ci acceca. Cosa fa un buon maestro? Prende quell'idea che ha in mente e la trasforma in un esempio, in una cosa che in realtà nasconde la profondità dell'insegnamento, e questo è un concetto di Gevurah, però per l'alunno questo è Chesed, perché così lui adesso può recepire e comprendere l'esempio, e dopo che approfondirà a lungo e mediterà l'esempio, potrà arrivare a comprendere l'idea originale del maestro. E dunque, per l'alunno, il vero Chesed qual è? La Gevurah del maestro. Sarebbe dire che come usare delle parabole, come usare delle metafore, anziché andare diritti al punto, perché questo punto altrimenti sarebbe troppo violento, troppo forte da comprendere. troppa luce, non è ricepibile ai nostri occhi, ci è cieca. La stessa cosa, una cosa troppo profonda, per una persona, non lo può capire. E dunque, rimane, che non è una rivelazione, ma un nascondimento. In ogni caso, questa è solo un'introduzione, per capire cosa è Chesed che Gevurah, perché poi non riusciamo ad andare avanti. Quindi, il sale rappresenta Gevurah. Perché il sale rappresenta Gevurah? Da dove viene il sale? Il sale viene dall'acqua, l'acqua è Chesed. sotto il sole si secca, rimane il residuo di sale. Il sale, per conto suo, è piccante, non è buono, è amaro. Però, senza sale, molte cose non funzionano. E dunque, è molto importante avere sempre una sintonia di Chesed e Gevurah insieme. perché solo Chesed non è positivo e solo Gevurah neanche è positivo. Ci vuole Chesed e Gevurah nel dosaggio giusto. Il sale cosa fa quando noi mettiamo il sale sul cibo? Il sale non penetra nel cibo. Il sale in realtà esalta, fa uscire il sapore che già si trova nel cibo. Dunque, l'acqua, bontà, il pane, bontà, il sale, Gevurah, forza. Bene, grazie. Il Talmud racconta che una persona dice al suo amico portami un Q, un Q sono circa 300-500 litri, una misura di volume, di grano nel secondo piano. quel tempo lì, con una soffitta, praticamente. Dopo gli chiede, hai fatto quello di questo? Mi ha detto, sì. Hai meschiato, là dentro, Cav Humton, Cav è una misura piccola, diciamo un chilo, così più superi, di Humton. Humton cos'è? Una terra con alto contenuto di sale. Dunque le hai chiesto, le hai chiesto, ha mischiato nel, in quei quintali di grano che ha portato un po' di questo preservante. Ha detto, no. Ah, era meglio che non lo facevi. Perché? Mi porti adesso nella soffitta del grano. Questo grano andrà male, e farà andare male il resto delle cose che sono lì. e torniamo al punto di prima, che solo chiesto può essere una cosa negativa. Perché uno, diciamo, un genitore, che è molto molto bravo con i suoi figli, gli dà tutto quello che loro vogliono. Non necessariamente questi bambini cresceranno bene. Perché chiesto può dare tutto, anche se può essere piccoloso, anche se può essere piccoli negativi.